Non può essere! No, deve essere una specie di scherzo! Il testo ha sbagliato? Ma, ma, no! Avere un ragazzo gamer è una cattiva notizia! Tesoro, dobbiamo parlare! Non adesso, tesoro! Ma voglio parlare di bambini! Perché non facciamo un bambino? Non adesso! Un bel bambino tutto nostro! Ho detto no! Tesoro, hai già pensato alla mia proposta? Carrie, cosa può essere cambiato in poche ore? No, non siamo ancora pronti! Buonanotte! Buonanotte! Spero che il mio sogno sia veri! Mi senti? Universo? Ehi, tesoro! Abbiamo dormito troppo! È ora di alzarsi! Svegliati! Ehi, svegliati! Penso che abbiamo una sorpresa! Che sorpresa! Guarda la tua pancia! Questo è il mio stomaco! So esattamente che aspetto ha! Lo vedrai da te! Il modo migliore per perdere peso è andare in bagno la mattina! Un paio di minuti e puoi vedere di nuovo i tuoi addominali! Ah, immagino che dovremo solo provare un po' di più! Perché il mio stomaco non sta scomparendo? Te l'ho detto! Perché c'è qualcuno lì dentro! Dobbiamo testare la mia teoria con un'ecografia! Non puoi ingannare un macchinario moderno! Se c'è una gravidanza, la rileverai immediatamente! A proposito, quando è successo? Questa mattina! Beh, cosa posso dire? Congratulazioni! Diventerete genitori! Wow! I sogni diventano realtà! Aspetta, che cosa? Cosa vuol dire genitori? Sono troppo giovane per essere incinto! Calmo, calmo! Non devi stressarti nella tua condizione! Tesoro, com'è possibile? Incinto? Impossibile! Ok, poche ore di esercizio salveranno le cose! Una bicicletta? Grande! Posso perdere facilmente i miei chili di troppo! Quinto giro! Le mie gambe sono già stanche! Il mio stomaco è chiaramente più piccolo! Oh, vieni qui! Sei fuori di testa! Fai esercizio pesante al sole! Dai, scendi dalla bici ed entra in casa! Sbrigati! Tutti gli uomini hanno un bambino interiore che ama giocare! E trovano sempre il lato positivo delle cose! Il tuo stomaco è diventato più grande? È ora di giocare a beer pong! Vai! Mancato! Vai di nuovo! Mancato di nuovo! Avanti, paffutello! Concentrati! Sì! Gol! Ehi, calciatori! Via di qui! Sta arrivando quella donna malvagia! Cosa sta succedendo? Non voglio vedervi mai più qui! O lo dirò alle vostre mogli! Tesoro, prima cosa! Non stai prendendo sul serio la gravidanza! Seconda cosa! I giochi rumorosi fanno male al bambino! Terza! Dove sei andato? Ehm... Cos'è? I medici sconsigliano i tatuaggi durante la gravidanza! Ma Thomas non è preoccupato! Quale dovrei fare? Un tatuaggio su tutto il corpo? Un braccio pieno? No! Vuole un tatuaggio che gli copra tutto lo stomaco! Va bene! Preparati! Farà un po' male! Meglio chiudere gli occhi! Mi chiedo perché non riesco a sentire niente! Sono gli ormoni? No! E' la tua premurosa mogliettina che veglia sulla tua salute! Ti stai tatuando lo stomaco? Sei fuori di testa! E il tuo negozio di tatuaggi dovrebbe venire chiuso per questo? Una parola! Uomini! Il basket è un gioco per ragazzi duri! Passa, passa! E fai canestro! Può un uomo incinto mettere le palle nel canestro in quel modo? Non ci credo! Amico, oggi sei al top! I chili in più ti fanno chiaramente bene! Sei ancora più bravo a saltare! Che bella giornata! Oh no! Mi porterai a una morte prematura! Vai a casa, sei in punizione! E faresti meglio ad andartene di qui prima che mi arrabbi! Stai camminando per casa! Quando improvvisamente vedi delle scale! La soffitta? Devono esserci molte cose interessanti lì dentro! Va bene, vado a controllare! Ma non è così facile! Scendi subito! Ti farei male! Non sono un bambino! Smettila di trattarmi come... Una persona incinta! Esattamente! Non sono incinto! Smettila di ripetere queste sciocchezze! Sono stanco! Me ne vado! Ma, se ci pensi... La famiglia è la cosa più preziosa! E il tempo che passiamo con la nostra famiglia non ha prezzo! Nessuno può capirti meglio della tua famiglia! E sarebbe bello trasmettere la tua esperienza di vita a un bambino e sentire tuo figlio ridere! Sì, forse la gravidanza non è così male! Sì, decisamente! Voglio un bambino! Prenderò vitamine! Smetterò di mangiare cibo spazzatura e mi iscriverò anche a un corso di yoga per persone incinte! È magnifico! Devo condividere subito la notizia con Carrie! È così, responsabile! Cerco di prendermi cura di lui e della sua salute! E lui cosa fa? Ti porta del buon tè! E ne ha fatto una tazza anche per se stesso! Devo mettere la testa a posto! Mi perdonerai! Perdonarti! Certo che ti perdono! L'ho già fatto! Che dolce ricongiungimento! Thomas sembra aver capito davvero tutto! Guarda come ha reso accogliente l'appartamento! Foto di famiglia, piccoli oggetti carini, colori delicati... Ora ti comporti come una vera persona incinta! Ma è così carino! La musica colpisce le persone in modo magico! È fantastica! È una melodia adorabile! Dovresti ascoltarla, piccolo! Fare un concerto per il bambino è la responsabilità principale di papà! Non è fantastico! Ricordatene! Quando crescerai balleremo insieme! Mi sento come se questi fossero gli ultimi giorni tranquilli! Dobbiamo goderceli! Oh, ecco le ragazze! Speravo che la calma sarebbe durata ancora un po'! Oh, non credo che siano più mie amiche! Che carino! Guarda la tua pancia! Fammela toccare! No, io! No, io! Potete prestare attenzione a me? Va via! Non vedi! Stiamo imparando a conoscere il tuo bambino! Oh! Chi ha inventato i film tristi? È impossibile guardarli! Questo è terribile! Oh, un film bello! Di cosa parla? Vuoi un po' d'acqua? È un film d'azione? È strano! Dall'espressione sul tuo viso pensavo fosse un melodramma storico! Oh, non arrabbiarti! Oh, dove stai andando? Al bagno? Ok! Cosa? Di nuovo? Oh sì! La gravidanza è difficile! Devi andare in bagno molto più spesso del solito! Possiamo mettere la tv direttamente in bagno se vuoi! Una preparazione adeguata è la chiave per un parto di successo! È ora di fare esercizi di respirazione! Niente panico! Respira! Spingi! Spingi! Forse dovremmo fare un taglio cesareo dopo tutto! No! Preferisco farlo naturalmente! I miei fianchi non aspettano altro! È stata una dura giornata! Hai bisogno di una buonanotte di sonno e di recuperare le forze! Buonanotte! Non è molto comodo, però... Sogni d'oro! Perché la notte sta passando così velocemente? Tesoro? Tesoro? Dov'è il tuo pancione? Era un sogno! Che sollievo! Oh no, aspetta! L'ho trovato! Sul mio corpo! Sì, diventeremo davvero genitori! Ti è piaciuta la nostra storia surreale ma felice? Quale situazione del fidanzato incinto ti ha sorpreso di più? Diccelo nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e condividi il video con i tuoi amici! Non dimenticare di fare clic sulla campanella in modo da non perdere nessuno sketch divertente su Troom Troom! Troom 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 Troom